Cresce purtroppo il numero di casi di coronavirus abitonto. Secondo gli aggiornamenti forniti dal sindaco nella diretta di lunedì scorso, sono risultati positivi al tampone 22 concittadini, per sei dei quali è stato necessario il ricovero ospedaliero. Tra i contagiati è accertata anche la presenza di un carabiniere della caserma locale. Le forze dell'ordine sono in prima linea a fronteggiare l'emergenza e a vigilare affinché i cittadini, sempre troppo sordi e gli appelli restino in casa il più possibile. Ma i dispositivi di protezione individuale cominciano a scarseggiare, sia per loro che per gli operatori sanitari. A denunciarlo è stato Michele Emiliano. Voi sapete che la questione di questi giorni sono i dispositivi di protezione individuale, mascherine, occhiali e tute per i medici. Purtroppo questa distribuzione è centralizzata in maniera obbligatoria, nel senso che è vero che qualcuno di noi sta provando a procurarsene in giro per il mondo, ma anche se ci riuscissimo tutto questo dovrebbe essere comunque consegnato alla protezione civile di Roma per la distribuzione secondo il bisogno. Sono arrivate qualche migliaio di mascherine stanotte dopo le nostre pressioni. Diciamo che abbiamo il necessario per andare avanti un altro giorno. Abbiamo la promessa da parte del governo e del commissario Arcuri di avere consegne quotidiane. Più in generale noi ci auguriamo che anche i 32 milioni di ordini che abbiamo fatto sul mercato parallelo di mascherine, tute, occhiali, ventilatori, possono andare a buon fine. Fino ad oggi, lo voglio ribadire, siamo andati avanti con le nostre scorte, le scorte che avevamo prudentemente messo da parte, ma nessuno ovviamente poteva acquistare a febbraio scorte superiori al periodo di quasi un mese che abbiamo passato fino ad oggi. Quindi abbiamo già fatto un vero e proprio miracolo. L'imperativo per il governatore è evitare il collasso del sistema sanitario regionale, messo già a dura prova dal numero crescente di contagi. I positivi in Puglia sono ormai 1.334, 753 in più rispetto alla scorsa settimana. In sette giorni è aumentato anche il ricorso all'ospedalizzazione. Con i 339 nuovi ricoveri sono in tutto 530 gli affetti da Covid-19 assistiti nelle strutture del territorio. I numeri, seppur terribili, sono comunque al di sotto delle previsioni della regione. Il picco è per ora dunque scongiurato, ma tutti dobbiamo fare ancora uno sforzo e restare in casa il più possibile. Grazie. 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 Grazie.